Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto, oggi voglio presentare questa fantastica Audi A1 Sport Week 30 TFSI nella versione Advance col pacchetto S-Line esterno e il cambio automatico S-Tronic, la vettura è un 2020 con solo 30.000 km, ex dipendenti Audi provenienti dalla Germania, è in perfettissime condizioni, è bianco ghiaccio metallizzato col tetto nero, ruota in lega da 17, fari full led davanti e dietro, guardate che bella, è fantastica, veramente una macchina eccezionale, questo pacchetto S-Line esterno gli dà veramente un tocco di grinta in più, vetri posteriori oscurati, panali full led posteriori, guardate, veramente una macchina fighissima, guardate che bella, spettacolare, andiamo ora a vedere gli interni, sedili sportivi, il posteriori praticamente sembra che non ci sia mai seduto nessuno, andiamo a vedere il baule, molto più grande e spazioso della versione precedente, ora andiamo a vedere la parte anteriore destra e la posteriore destra, vettura intonsa, tra l'altro monta già le ruote quattro stagioni, quindi adesso che arriva l'inverno siamo già a posto, il logo S-Line, guardate che bel faro, veramente eccezionale, a me piace tantissimo questa vettura, ora andiamo a vedere gli accessori interni, cambio automatico S-Tronic a 7 marce, cruscotto digitale, vedete, poi abbiamo volante multifunzione, Audi Lane Assist, cruise control, fare automatici, navigatore satellitare, sensori parcheggio, clima automatico, sedili riscaldati, bluetooth, carica batteria del telefono in induzione, la vettura veramente completa di tutto, questa vettura noi la consegniamo con 3 anni di garanzia, col tagliando fatto olio e tutti i filtri, lucidatura esterna, sanificazione interna, doppie chiavi, tappetini in gomma, libretto di soluzione in italiano, la vettura la trovate a Motta di Consigliore d'Assi della Bianco Auto, venite a trovarci e a vederla, il numero è 0141 96 92 14, l'email è info-biancoauto.it e il whatsapp è 345 060 86 80, ciao a tutti e alla prossima.